Si comincia a delineare il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche il popoloso comune costiero di Giulianova in provincia di Teramo. Se da una parte troviamo il ricandidato sindaco uscente Ivan Costantini, diventato in corsa espressione del centrodestra, il centrosinistra ha annunciato il nome di Alberto Ortolani per la carica di sindaco, segnando così una significativa alleanza tra partito democratico, cittadino governante e Movimento 5 Stelle. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi per creare l'unità, perché come abbiamo sempre detto l'unità è un valore aggiunto. Ora abbiamo, e lo dico veramente con soddisfazione, raggiunto una sintesi, una coalizione all'interno della quale c'è la nostra associazione, il cittadino governante, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. È stato, ripeto, un percorso di democrazia sui temi, sulle prospettive che vogliamo dare a questa città. La cosa che ci ha unito più di tutto è stata proprio la volontà politica di garantire un'alternativa a Giulianova, perché Giulianova ha bisogno di un buon governo, ha bisogno di un cambiamento vero, e proprio su questi temi ci siamo uniti. La maggioranza dell'Assemblea Dem ha quindi scelto di appoggiare la Ortolani, proposta da cittadino governante e Movimento 5 Stelle, come candidata a sindaco della coalizione. Il PD però continua a mantenere aperto il dialogo con altre forze del centro-sinistra e di ispirazione civica. Dare voce ai cittadini, anche questo è un aspetto molto importante. La partecipazione è un tema che ci sta a cuore, perché l'abbiamo sempre praticata attraverso assemblee, incontri con le altre forze politiche, ma anche con la cittadinanza. Quindi in generale io direi che la promessa è proprio del buon governo, del governo di cambiamento, del governo capace di ascoltare, ma anche di rispondere in maniera tempestiva alle necessità e ai bisogni di Giulianova.